Ragazzi, un veloce consiglio dopo che avete sbloccato Alohomora, soprattutto a Augsworld e a Hogsmith dove non si combatte e ci sono un miliardo di milioni di forzieri con le serrature che vi costringono a fare questo minigioco per sempre, soprattutto dietro le porte con la serratura tipicamente ci sono 47 forzieri all'interno, tutte 47 con la serratura, dovete fare questo minigioco fino alla noia, in queste due aree dove non si combatte. Se state giocando a difficoltà più alta di storia è un problema, se invece mettete a storia, questo qui veramente vi salva un sacco di noia, potete accedere alla serratura e premere qui, lo risolvi automaticamente e premendo X il puzzle si risolverà automaticamente, così vi risparmi a tantissimo tempo.